Allora, buongiorno, oggi è 20 marzo ed è venerdì, domani inizierà la primavera. Come tutti i venerdì vi do dei compiti per casa, in questo caso sono sempre compiti per casa, sono compiti da fare nel fine settimana, non vi preoccupate, non ve ne do molti. Sono delle divisioni, fino adesso noi abbiamo fatto sempre divisioni in riga, anche perché erano sempre numeri piccoli. Vediamo come si fa invece quando sono numeri magari un po' più grandi, quindi sono difficili da fare a mente e bisogna farle scritte e però in questo caso in colonna. Come le addizioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni, quando sono piccoli si possono fare a mente, invece quando iniziano ad essere numeri un po' più grandi è meglio farle in colonna. Sul vostro libro di sciclina questa cosa è spiegata a pagina 59, le chiama divisioni in colonna con due cifre al dividendo. Vi ricordate che dividendo era il primo numero, quello che bisogna dividere, il divisore è il secondo numero, quindi qua per esempio mi dà due divisioni per spiegare. La prima è 48 diviso 3. Vedrete che ci sta primo caso e secondo caso, e adesso vi spiego perché. Allora, primo caso, 48 diviso 3. Adesso io non posso prendere tutte e due le cifre insieme perché altrimenti sarebbe troppo. Prendo nel dividendo soltanto la prima cifra, quella delle decine. Per ricordarmi che prendo questo e li metto un bel cappelletto sopra, sopra il 4. E devo vedere il 3 nel 4 quante volte ci va e devo fare la tabellina del 3. La tabellina del 3 per arrivare a 4 è subito fatta. 3 per 1, 3, e ci va una volta. 3 per 2, 6. Quando supera vuol dire che non ci va, quindi due volte non ci va, ci va una volta. 3 per 1, 3, però non ci va in maniera esatta. Devo vedere quanto rimane di resto. 3 per 1, 3, per arrivare a 4 ce ne manca 1. Quindi il risultato che ci va una volta lo scrivo qua, sotto questa lineetta. E invece, allora qua ci metto 3, nel 4 ci va una volta e lo scrivo qua, con resto di 1. Questo resto lo scrivo sotto alla decina, sotto al 4 di prima e mi rimane qua. Adesso invece devo calcolare le unità. qua ho l'8, ci metto un altro cappelletto sopra l'8, però non lo prendo da solo, lo metto, lo abbasso e lo abbasso vicino a quest'1, quello di resto. Così questo qua diventa 18. E adesso devo vedere il 3 nel 18. Quante volte ci va? Rifaccio la tabellina del 3. 3 per 1, 3. 3 per 2, 6. 9. 12. 15. 18. Il 3 nel 18 ci va esattamente 6 volte, questo 6 lo scrivo qua. In questo caso, siccome 3 per 6 fa proprio 18, il resto è 0. Quindi, risultato 48 diviso 3 uguale 16 col resto di 0. La ripeto. 48 diviso 3. Allora, prima il 3 nel 4. Il 3 nel 4 ci va una volta. Ci va una volta e lo scrivo qua. al risultato. Col resto di 1. Questo resto lo scrivo qui. Poi vado a calcolare l'unità. Prendo quest'8 e lo abbasso. Lo metto vicino all'1 e diventa 18. Adesso vedi il 3 nel 18. Quante volte va? Il 3 nel 18 ci va 6 volte. Col resto di 0. E questo è il primo caso. Perché il primo caso e il secondo caso? Perché qua abbiamo visto che il 3 andava una volta nel 4. Però possono capitare anche quei numeri. Qua per esempio abbiamo 26 diviso 8. L'8 nel 2 non ci va nemmeno una volta. E perché non ci va nemmeno una volta? Perché è più grande. Come vi dico sempre, un po' come quando io voglio mettere un piede grande in una scarpa piccola. Un piede grande in una scarpa piccola non ci va perché è troppo grande. Questo 8 nel 2 non ci va perché è più grande. Però prendo quindi non solo il 2, ma faccio un cappello più grande che prende il 2 e anche il 6. Quindi prendo il 26 in considerazione. E quindi adesso posso fare l'8 nel 26. Quante volte va? La barriera è l'8. 8, 16, 24. L'8 nel 24 ci va 3 volte. E il 3 lo scrivo qui al risultato. 3 volte col resto di 2. Perché resto di 2? Perché ho fatto 8 per 3, 24. Per arrivare a 26, 25, 26, me ne mancano 2. Quindi 26 diviso 8 uguale 3 col resto di 2. Da capo. L'8 nel 2 non ci va. Quindi prendo il 26. 8 nel 26 va 3 volte col resto di 2. Ok? Qui ci sono delle divisioni che dovete fare voi. Alcune da fare sul libro e altre da fare sul quaderno. Allora, vi ho fatto le prime due. Allora, abbiamo il 19 diviso 4. Il 4 nell'1 non ci va, quindi prendo tutto il 19. 4 nel 19, 4, 8, 12, 16. Il 4 nel 19 ci va 4 volte. Da 16 per arrivare al 19 ce ne mancano 3. Quindi va 4 col resto di 3. Vediamo la seconda, che è 97 diviso 3. Il 3 nel 9, metto il cappello sotto al 9. Il 3 nel 9 ci va 3 volte. E lo scrivo qua. 3 per 3 fa 9, quindi resto di 0. Abbasso questo 7. Il 7 va vicino al 0, quindi rimane 7. Il 3 nel 7 quante volte va? Va 2 volte col resto di 1. Adesso vi metterò la stessa spiegazione, vi darò un altro video con la stessa spiegazione, fatte in maniera un po' più breve, con un cartone animato, quindi magari vi rimane più impresso. Ovviamente, se c'è qualche cosa che non capite potete chiedere ai vostri genitori. Non vi preoccupate, tutte queste cose che facciamo adesso in questa maniera, quando torneremo a scuola, le rifaremo insieme. Ricominciamo tutto da capo e le rifaremo insieme perché è meglio che le rifacciamo insieme. Quindi, da fare per casa sono queste divisioni qui sul libro e queste altre da fare sul quaderno. E più c'è anche la pagina 54 da fare sull'eserciziario. Allora, una volta che prendete il ritmo, diventate abbastanza veloci e non è tanto difficile. Comunque, per il momento è questo. Vi saluto e buona primavera. Ciao!